Un'opera di valenza europea, un'infrastruttura che più di altre guarda il terzo millennio, che assume un ruolo strategico per l'intera area metropolitana. Così l'assessore regionale ai trasporti, Morra, ha definito la realizzazione del collegamento filoviario tra Pescara e Montesilvano nel corso della riunione che si è svolta questa mattina a Pescara, nella sede della regione, e dalla quale hanno preso parte anche il sindaco e il vice sindaco del comune di Pescara, Albore Mascia e Fiorilli, il neopresidente della GTM, Michele Russo, ed i componenti del CDA, l'assessore del comune di Montesilvano, Domenico Di Giacomo, i rappresentanti del SIR, il sistema ingegneristico regionale, e quelli della Balfour Bitti, il gruppo inglese leader mondiale nel settore delle infrastrutture, che è capofila dell'Associazione Temporanea di Imprese, a giudicataria dell'appalto per la realizzazione del primo lotto dell'impianto di trasporto pubblico locale. Intanto è stato costituito un gruppo di lavoro che si riunirà con cadenza almeno mensile e che sarà chiamato ad accelerare i vari passaggi burocratici e tecnici intermedi funzionali alla realizzazione dell'opera. Nel frattempo, ha rilevato Morra, ci sono già state delle cessioni di aree da parte dei privati. I tempi saranno comunque rapidi. L'assessore Morra ha inoltre ribadito la disponibilità al dialogo e l'attenzione del governo regionale nei confronti di tutte le istanze che dovessero provenire dalla cittadinanza. Non siamo affatto chiusi al contraddittorio, ha sottolineato Morra.